L'abbonamento tramite Twitch Prime, grazie mille Questo qua è un periodo particolare, io non vedo YouTube come un lavoro attualmente Perché sennò farei video alla cazzo di cane così, no? Chi è? Ma chi è questa persona, scusate? Chi cazzo l'ha fatta entrare a questo? Ho detto mille volte Che non voglio nessuno In studio MENTRE LAVORO Basta, basta, sto col pigiama Cioè, basta Basta Ciao papà, grazie mille Stavo dicendo